guarda quella delle gioie contenibili guarda che è tuo è contenibile meglio della Juve proprio si cosa è sta roba ma che gioca non venivi ma basta ma basta non è Van Basten questo qua ma sta affilata figa Van Basten dica dopo saltasso non è troppo lungo il replay hai visto su un buon palo che cosa si ho visto uno che giocava ma che roba detto qua becca il filtrante tira da dentro la BOOM che cazzo sta affilata e si